Ma come mai Harry e Hermione non si mettono insieme alla fine della saga cinematografica? Bene, sono qua per parlarvene un po' suscitandovi qualche curiosità. Quindi se siete interessati, continuate la visione di questo video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati sul Chuck e azione! Dunque ragazzi, bene, ci sono moltissime voci a riguardo questa storia, ovvero del perché il nostro Harry Potter, che è il protagonista della saga, non si mette con la ragazza protagonista della saga. Perché, come ben sappiamo, di solito nei film funziona così. Però qui i protagonisti non sono due, bensì tre, perché abbiamo anche il nostro Ron. E lui, di fatti, ci finisce insieme. Quindi oggi sono qua per dirvi un po' quali sono i motivi principali per cui il nostro Harry, alla fine, non si mette insieme a Hermione. E vi dirò, vi lasceranno un po' estere fatti, perché anch'io quando li ho visti ho detto ah, accidenti, però sotto sotto ci può stare. Passiamo al motivo numero uno. Ebbene, il nostro maghetto non si innamora della nostra Hermione perché lui considera sia lei che Ron una famiglia. E quindi l'unico amore che prova per loro è un amore fraterno, un amore di famiglia, indissolubile. Detto ciò, non riuscirà mai a vedere Hermione come una ragazza con cui mettersi insieme. Bensì, la sorella del suo fratello, invece, sì, a quanto pare. Però, ragazzi, non era la protagonista, era caruccia e comunque ci sta. Però, comunque, questo discorso della famiglia, se andate a vederla fino a un fondo ci può stare, dato che lui, essendo orfano, ha ritrovato una nuova famiglia ad Hogwarts e quindi questi migliori amici. La prossima motivazione vi farà un po' ridere perché, ragazzi, il nostro Harry non si innamora della nostra Hermione perché, al contrario di Emma Watson come adattamento cinematografico, diciamo che la sua controparte cartacea, ovvero Hermione, nel libro, non era così bella, ma assolutamente no. Era veramente bruttissima, era una cosa inguardabile. Detto ciò, Harry non si potrebbe mai innamorare di una ragazza così. Ora, non voglio giudicare nessuno, però è uno dei motivi chiave per cui Harry non si è innamorato di Hermione. Nel film l'hanno resa bellissima, da parte Emma Watson, era carina da piccola e poi crescendo è sempre migliorata. E nei film, come ben si sa, per attirare telespettatori al cinema e far sì che abbia successo, bisogna metterci anche degli attori un po' fighi, un po' belli, un po' carini. E sinceramente in un libro è una cosa indifferente, infine non è che devi far vedere un'immagine, è un altro discorso, è una scritta. Quindi una descrizione. Nel libro, diciamo, le cose che vengono approfondite sono altre e non di certo si intravede un pensiero, un sentimento, qualcosa riguardo l'amore tra Harry e Hermione a livello fisico. Nella storia al cinema, come ben sappiamo, c'è una scena che li racchiude, ma è soltanto nell'Horkrux per distruggere Voldemort, dove c'era anche Ron di mezzo per farvi ingelosire. Però quello è un altro discorso e se volete vederlo ve ne ho parlato anche nel video precedente, quello sui baci di Harry Potter. In ogni caso, i motivi sono questi. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi chiedo scusa per la voce, perché purtroppo non ne avevo punta, adesso mi è un po' tornata e dovevo assolutamente fare questo video. Vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto, noi ci vediamo fino a questo prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.